capitolo 9 quando arrivò a casa la signora nonna gli diede un'occhiata e gli suggerì di riposarsi un po prima di cena crollò sul letto ma si sentiva così agitato che pensava non avrebbe dormito mai più e un attimo dopo tigris gli scuoteva gentilmente una spalla da un vassoio sul comodino si sprigionava l'aroma confortante di pastina in brodo a volte il macellaio le dava gratis delle carcasse di pollo e lei le bolliva sino a farne qualcosa di meraviglioso corio disse satiri ha chiamato tre volte e a me non vengono in mente altre scuse forza adesso mangia e poi richiamala ha chiesto di clemenzia qualcuno lo sa si lasciò sfuggire lui clemenzia dovgut no perché avrebbe dovuto chiese tigris è stato atroce le raccontò la storia in tutti i suoi raccapriccianti dettagli mentre parlava il viso della ragazza sbiancò la dottoressa gol ha fatto in modo che i serpenti la mordessero per una piccola bugia innocua come quella proprio così e non le interessava affatto che clemmi sopravvivesse rispose si è limitata a cacciarmi via per poter fare la sua merenda pomeridiana è da sadici o da pazzi totali disse tigris pensi di denunciarla e a chi lei è il capo stratega replicò lavora diretto contatto con il presidente dirà che è stata colpa nostra perché abbiamo mentito tigris ci pensò su d'accordo non denunciarla non affrontarla neanche evitala più che puoi è difficile visto che sono un mentore continuo a presentarsi all'accademia per giocare con quel librido di coniglio e fare un sacco di domande assurde una sola parola da parte sua può farmi vincere o perdere il premio si sfregò il viso con le mani aracne è morta clemenzia è stata avvelenata dai serpenti e lucy gray beh quella è un'altra storia davvero orribile dubito che ce la farà ad arrivare ai giochi e forse è meglio così tigris gli mise un cucchiaio in mano mangia abbiamo superato cose peggiori di queste gli snow si posano in cima gli snow si posano in cima ripete lui ma con così poca convinzione che si misero a ridere tutti e due ridere lo fece sentire un po più normale mandò giù qualche cucchiaiata di minestra per accontentare la cugina poi si rese conto di essere affamato e divorò tutto in un lampo quando satiria richiamò coriolanus fu sul punto di lanciarsi in una confessione ma venne fuori che lei voleva solo chiedergli di cantare l'inno il mattino dopo al funerale di aracne il tuo eroismo allo zoo unito al fatto che sei l'unico a conoscere tutte le parole ti rendono la prima scelta del corpo insegnante ne sarò onorato rispose ottimo satiria beve rumorosamente facendo tintinnare il ghiaccio nel suo bicchiere poi si staccò per riprendere fiato come vanno le cose con il tuo tributo coriolanus esitò lamentarsi sarebbe potuto sembrare infantile come se non riuscisse a gestire i suoi problemi non chiedeva quasi mai aiuto a satiria ma poi pensò a lucy gray che crollava sotto il peso delle catene e gettò al vento la prudenza non bene ho visto lucy gray oggi solo per un momento è molto debole capitol city non le ha dato assolutamente niente da mangiare da quando ha lasciato il distretto 12 ma dai saranno passati i quanti quattro giorni chiese satiria sorpresa cinque non penso che arriverà agli hunger games ho idea che alla fine non avrò un tributo al quale fare da mentore rispose e sarà lo stesso per molti di noi beh è ingiusto è come dirti di condurre un esperimento con le apparecchiature guaste replicò lei tanto più che i giochi verranno rimandati almeno di un giorno o due rimase per un momento in silenzio poi aggiunse vedrò cosa posso fare coriolano si riattaccò e si girò verso tigris vogliono che canti al funerale non ha parlato di clemenzia devono averlo tenuto segreto allora è quello che farai anche tu disse tigris magari vorranno fingere che tutta la faccenda non sia mai accaduta magari non lo riferiranno nemmeno al decano high bottom aggiunse lui illuminandosi in viso poi gli venne in mente un'altra cosa tigris mi sono appena ricordato che io non so cantare e per qualche motivo quella risultò la cosa più buffa che entrambi avessero mai sentito per la signora nonna invece non c'era niente da ridere e la mattina seguente lo fece alzare all'alba per prepararlo alla fine di ogni verso lo punzicchiava nelle costole con un righello e gridava respira finché coriolanus non riuscì più a immaginare di fare altro per la terza volta quella settimana l'anziana donna sacrificò una delle sue amate rose al futuro del nipote fissandogli un bocciolo azzurro alla giacca della divisa stirata con cura e dicendo ecco intenta con i tuoi occhi elegante con la pancia piena di farinata d'avena e la gabbia toracica punteggiata di lividi che gli ricordavano di ispirare coriolanus si incamminò verso l'accademia anche se era sabato l'intero corpo studentesco si presentò all'appello prima di riunirsi sulla scalinata della scuola suddiviso per classi con precisione e in ordine alfabetico in virtù del suo incarico coriolanus si ritrovò in prima fila insieme agli insegnanti e agli ospiti illustri soprattutto il presidente ravenstil satiria gli fece un rapido quadro del programma ma l'unica cosa che gli rimase in mente fu che la sua esecuzione dell'inno avrebbe aperto la cerimonia parlare in pubblico non gli dava alcun fastidio però non aveva mai cantato in pubblico a panem erano poche le occasioni per farlo era uno dei motivi per cui la canzone di lucy gray aveva attirato l'attenzione della gente si rilassò pensando che se anche avesse ululato come un cane non c'era poi molto a cui paragonarlo dall'altra parte del viale le tribune provvisorie approntate per il corteo funebre si riempirono in fretta di persone vestite di nero l'unico colore di cui certamente nessuno era sprovvisto dato che tutti avevano perduto persone care durante la guerra cercò i crane ma non riuscì a individuarli tra la folla l'accademia e i palazzi circostanti erano parati a lutto e sfoggiavano bandiere di capital city a tutte le finestre numerose telecamere erano state posizionate in modo da riprendere l'evento e molti inviati di capital tv commentavano in diretta coriolanus pensò che fosse un ostentazione eccessiva per aracne sproporzionata sia alla sua vita sia alla sua morte che oltretutto avrebbe potuto essere evitata se lei si fosse astenuta da quel comportamento da esibizionista in tanti erano morti eroicamente in guerra e non avevano ottenuto un riconoscimento del genere fatto che gli dava sui nervi fu sollevato al pensiero di dover cantare invece di elogiare le doti di aracne doti che se ben ricordava si limitavano all'essere tanto rumorosa da assordare l'auditorium della scuola senza bisogno di un microfono e all'abilità di tenere un cucchiaio in equilibrio sul naso e il decano aveva accusato lui di volersi mettere in mostra tuttavia ricordò a se stesso aracne era praticamente di famiglia l'orologio dell'accademia batte le nove e la folla si fece silenziosa a un segnale coriolanus si alzò e andò verso il podio satiria gli aveva promesso un accompagnamento ma il silenzio si protrasse così a lungo che lui prese fiato per attaccare un attimo prima che una versione metallica dell'inno cominciasse a diffondersi dagli altoparlanti dandogli un'introduzione di 16 battute gemma di panem città potente nei secoli tu splendi ancora il canto richiedeva un parlato sostenuto più che uno sforzo melodico ma d'altra parte il brano non era molto impegnativo la nota alta che la signora nonna mancava regolarmente era facoltativa e infatti quasi tutti la cantavano un'ottava più bassa con il ricordo del suo righello che lo pungolava superò brillantemente la prova senza mai sbagliare una nota o rimanere senza fiato tornò a sedersi dopo generosi applausi e un cenno di approvazione del presidente che lo sostituì sul podio due giorni fa la giovane e preziosa vita di arachne crane è stata spezzata e ora noi piangiamo un'altra vittima della criminale ribellione che ancora ci affligge declamò monotono il presidente la sua morte è stata valorosa quanto quelle sul campo di battaglia la sua perdita più grave nel momento in cui sosteniamo di essere in pace ma non esisterà alcuna pace finché questo morbo continuerà a consumare quanto vi è di buono e di nobile nel nostro paese oggi rendiamo onore al suo sacrificio ricordando che il male esiste sì ma non prevarrà e ancora una volta testimonieremo come la nostra grande capital city porterà giustizia a tutto panem i tamburi cominciarono a rimbombare lenti e profondi e la folla si girò mentre il corteo funebre svoltava l'angolo sulla strada anche se non era ampia quanto il corso via dell'accademia conteneva senza difficoltà la guardia d'onore dei pacificatori disposti fianco a fianco su 40 file da 20 soldati che marciavano con perfetta regolarità al ritmo dei tamburi coriolanus si era chiesto quale strategia ci fosse dietro la volontà di riferire ai distretti che un tributo aveva ucciso una ragazza di capital city ma ora ne capiva il significato i pacificatori erano seguiti da un lungo camion scoperto con una gru fissata sul fondo in alto il corpo crivellato di pallottole della ragazza del distretto 10 brandy penzolava dall'uncino ammanettati al pianale decisamente sporchi e scoraggiati c'erano gli altri 23 tributi le catene non permettevano loro di stare in piedi quindi erano costretti a rimanere accovacciati o seduti sul nudo fondo metallico quella era solo l'ennesima occasione per ricordare ai distretti la loro inferiorità e che ogni resistenza avrebbe avuto delle conseguenze coriolanus notò che lucy gray tentava di restare aggrappata a un brandello di dignità stando se ne seduta bene retta per quanto glielo consentivano le catene e tenendo lo sguardo fisso davanti a sé senza considerare il corpo che ondeggiava ad agio sopra la sua testa ma era inutile la sporcizia i ceppi l'esibizione pubblica era troppo provò a immaginare come si sarebbe comportato lui in quella situazione finché non si rese conto che era senza dubbio quello che stava facendo anche seianus e scacciò subito quel pensiero un altro battaglione di pacificatori seguiva i tributi aprendo la strada ai cavalli di un tiro a quattro gli animali ornati di ghirlande trainavano un carro decorato sul quale era posta una bara bianchissima coperta di fiori dietro la bara venivano i crane su una carrozza anch'essa trainata da cavalli se non altro la famiglia aveva il buon gusto di apparire a disagio il corteo si fermò quando la bara giunse davanti al podio la dottoressa gol che era rimasta seduta accanto al presidente si avvicinò al microfono coriolanus pensò che fosse un errore permetterle di parlare in un momento del genere ma la donna doveva aver lasciato a casa la versione pazza di sé e i suoi braccialetti rosa fatti di serpenti perché parlò con austera e intelligente lucidità arachne crane noi cittadini di panem giuriamo che la tua morte non sarà stata vana quando uno di noi viene colpito noi restituiamo il colpo due volte più forte gli hunger games andranno avanti con più energia e impegno che mai mentre aggiungiamo il tuo nome alla lunga lista di innocenti che sono morti difendendo una terra giusta e virtuosa i tuoi amici familiari e concittadini ti salutano e dedicano i decimi hunger games alla tua memoria perciò adesso quella chiacchierona di arachne era diventata il difensore di una terra giusta e virtuosa certo ha sacrificato la sua stessa vita per deridere il suo tributo con un panino pensò coriolanus magari sulla sua lapide potrebbero scrivere vittima di risate a buon mercato una fila di pacificatori in fusciacca rossa sollevò i fucili e sparò parecchie salve di colpi sopra il corteo che percorse qualche isolato per poi sparire dietro un angolo mentre la folla si diradava molti interpretarono l'aria afflitta di coriolanus come dolore per la morte di arachne quando invece per assurdo lui aveva una gran voglia di ucciderla di nuovo ciò nonostante aveva l'impressione di essersela cavata bene finché non si voltò e trovò il decano high bottom che lo squadrava dall'alto in basso le mie condoglianze per la perdita della tua amica disse il decano e di una sua studentessa è un giorno difficile per tutti noi ma il corteo è stato molto commovente ribatte coriolanus credi io l'ho trovato eccessivo e di cattivo gusto commentò l'uomo colto di sorpresa coriolanus si lasciò sfuggire una breve risata prima di riprendersi e tentare di apparire scioccato il decano fece cadere lo sguardo sul bocciolo azzurro di coriolanus è sorprendente come cambino le piccole cose dopo tutte le uccisioni dopo tutte le angosciate promesse di ricordarne il prezzo dopo tutto questo non riesco a distinguere il germoglio dal fiore diede un colpetto con l'indice alla rosa sistemando nell'angolazione e sorrise non fare tardi a pranzo ho sentito che ci sarà una torta l'unica cosa positiva di quell'incontro fu che al buffet speciale allestito nella mensa scolastica la torta c'era davvero alle pesche stavolta a differenza del giorno della mietitura coriolanus si riempì il piatto di pollo fritto e prese la fetta di dolce più grossa che riuscì a trovare spalmò burro in abbondanza sul pane e fece il tris di ponce all'uva riempiendo così tanto l'ultimo bicchiere da farlo traboccare e finendo per macchiare il tovagliolo di lino nel raccogliere il liquido che la gente parlasse pure il primo dolente aveva bisogno di energie ma già mentre mangiava si rese conto che il suo solito talento per l'autocontrollo cominciava a sgretolarsi ne diede colpa al decano e alla sua continua persecuzione ma di cosa blatterava poi germogli fiori avrebbe dovuto essere rinchiuso da qualche parte oppure ancora meglio essere deportato in un avamposto lontanissimo così da lasciare in pace la gente per bene di capitol city solo pensare a lui rispedì coriolanus a cercare altra torta seianus invece punzechiava il pollo e il pane che aveva nel piatto senza mangiarne nemmeno un boccone se a coriolanus non era piaciuta la parata funebre per seianus doveva essere stata un supplizio ti faranno rapporto se butti via tutta quella roba gli ricordò coriolanus non andava pazzo per quel tipo ma neanche voleva vederlo punito giusto disse seianus ma parve comunque incapace di buttare giù più di un sorso di punch quasi al termine del pranzo satiria radunò i 22 mentori attivi per informarli non solo che gli anger games sarebbero andati in onda comunque ma che la loro visibilità avrebbe dovuto essere ancora maggiore a tale scopo i mentori avrebbero accompagnato i loro tributi in un tour dell'arena quello stesso pomeriggio l'evento sarebbe stato trasmesso in diretta a tutto il paese perché fosse ben chiara la decisione di cui la dottoressa gol aveva parlato al funerale il capo stratega aveva l'impressione che dividere i ragazzi di capitol city da quelli dei distretti indicasse debolezza come se i primi avessero troppa paura dei nemici per rimanere in loro presenza i tributi sarebbero stati ammanettati ma non incatenati i migliori tiratori scelti dei pacificatori si sarebbero mescolati alle guardie che li sorvegliavano però i mentori dovevano essere visti fianco a fianco con i ragazzi che erano stati incaricati di seguire coriolanus avvertì una certa riluttanza tra i suoi compagni dopo la morte di aracne i genitori di molti avevano presentato reclami per le misure di sicurezza scadenti ma nessuno parlò dato che nessuno voleva apparire codardo tutta quella faccenda gli sembrava pericolosa e imprudente cosa avrebbe impedito agli altri tributi di rivoltarsi contro i loro mentori ma non l'avrebbe mai detto una parte di lui si chiedeva se la dottoressa gol non sperasse in un altro episodio di violenza per poter punire un altro tributo davanti alle telecamere questa ulteriore dimostrazione dell'insensibilità della dottoressa gol gli faceva venire voglia di ribellarsi lanciò una rapida occhiata al piatto di seianus finito oggi non riesco a mangiare rispose seianus non so cosa farci con questa roba la loro zona si era svuotata sotto il tavolo coriolanus si stese sulle ginocchi al tovagliolo di lino macchiato si sentì ancor più colpevole quando si accorse che era decorato con il sigillo di capital city mettila qui disse con un'occhiata furtiva seianus si guardò intorno e trasferì rapidamente pollo e pane nel tovagliolo coriolanus ne riunì i lembi e infilò tutto nello zaino non erano autorizzati a portare via il cibo dalla mensa e di sicuro non per un tributo ma dove altro avrebbe potuto procurarsene un po prima del tour lucy gray non avrebbe potuto mangiare davanti alle telecamere ma il suo vestito aveva tasche profonde lo infastidiva che ora metà del suo bottino andasse a gessa ma forse quell'investimento avrebbe pagato quando fossero iniziati i giochi grazie sei un vero ribelle disse seianus mentre lasciavano i vassoi al nastro trasportatore che arrivava in cucina sono una brutta persona d'accordo replicò coriolanus i mentori si ammassarono su alcuni furgoni dell'accademia e si diressero nell'arena di capital city che era stata eretta dall'altra parte del fiume per impedire alle folle di inondare il centro città in passato l'enorme modernissimo anfiteatro aveva ospitato molti eventi sportivi spettacoli o manifestazioni militari entusiasmanti durante la guerra era lì che si erano ottenute le esecuzioni dei nemici più importanti e di conseguenza era lì che si erano concentrati i bombardieri dei ribelli per quanto la struttura originale fosse rimasta in piedi adesso era mar ridotta e instabile utile solo come sede degli hunger games il campo erboso un tempo verdeggiante e scrupolosamente curato era pressoché scomparso crivellato di crateri lasciati dalle bombe ormai era una distesa di terra sulla quale l'unica vegetazione si componeva di erbacce detriti dovuti alle esplosioni grossi pezzi di metallo e pietra giacevano ovunque e il muro alto quasi cinque metri che circondava il campo era pieno di crepe e butterato da schegge di proiettili ogni anno i tributi venivano chiusi lì dentro in compagnia soltanto di un arsenale di coltelli spade mazze ferrate quant'altro potesse favorire lo spargimento di sangue mentre il pubblico guardava da casa alla fine dei giochi chi era riuscito a sopravvivere veniva rispedito al suo distretto i cadaveri erano rimossi le armi raccolte e le porte chiuse a chiave fino all'anno successivo nessuna manutenzione nessuna pulizia il vento e la pioggia avrebbero forse lavato via le macchie di sangue capital city no la professoressa sickle che le accompagnava in quella gita ordinò ai mentori di lasciare i loro averi nei furgoni coriolanus si infilò il tovagliolo pieno di cibo in una delle tasche anteriori dei pantaloni e la tenne coperta con l'orlo della giacca quando passarono dall'aria condizionata al sole cocente vide i tributi ammanettati in fila sotto la stretta sorveglianza dei pacificatori ai mentori fu detto di sistemarsi accanto ai rispettivi tributi erano stati disposti per numero di conseguenza coriolanus si trovava quasi in fondo insieme a lucy gray alle sue spalle c'erano soltanto gessa e la sua mentore lisistrata che non raggiungeva i 45 chili di peso davanti a lui invece il tributo di clemenzia mortifer quello che lo aveva quasi strangolato sul camion fissava turvo a terra se si fosse arrivati a uno scontro mentore tributo la buona sorte non sarebbe stata affatto a favore di coriolanus nonostante l'aspetto delicato lisistrata aveva un certo coraggio figlia del medico del presidente ravenstil era stata fortunata a ottenere un incarico da mentore e a quanto pareva stava lavorando sodo per creare un legame con gessa ti ho portato della pomata per il collo la sentì bisbigliare coriolanus però devi tenerla nascosta gessap fece un grugnito di assenso quando posso te la infilo in tasca i pacificatori tolsero le pesanti sbarre che sprangavano l'entrata i battenti massicci si aprirono rivelando un enorme atrio fiancheggiato da chioschi chiusi con assi di legno e rivestito di cartelloni punteggiati da escrementi di mosca che pubblicizzavano eventi di prima della guerra mantenendo la formazione i ragazzi seguirono i soldati all'interno fino alla parte opposta dell'atrio una fila di tornelli a tutta altezza ciascuno con tre bracci di metallo ricurvi era coperta da uno spesso strato di polvere l'accesso richiedeva un gettone di capitol lo stesso che si usava ancora per una corsa del tram questo era l'ingresso dei poveri pensò coriolanus o forse no non poveri gli venne in mente il termine plebei la famiglia snow entrava nell'arena da un altro ingresso delimitato da un cordone di velluto al loro palco di sicuro non si poteva accedere con un gettone del tram a differenza di gran parte dell'arena aveva un tetto una vetrata che si poteva alzare e abbassare e un sistema di areazione che aveva reso piacevoli anche le giornate più torride avevano a disposizione un senza voce che portava da mangiare e da bere agli adulti e giocattoli per lui e tigres se poi coriolanus finiva con l'annoiarsi troppo schiacciava un pisolino sulle soffici poltroni imbottite i pacificatori posizionati accanto a due tornelli inserivano gettoni nelle fessure in modo che ciascun tributo e relativo mentore potessero attraversarli contemporaneamente a ogni rotazione una vocetta allegra cinguettava si goda lo spettacolo non potete disabilitare i tornelli chiese la professoressa sical potremmo se avessimo la chiave ma sembra che nessuno sappia dov'è rispose un pacificatore si goda lo spettacolo augurò il tornello mentre coriolanus lo superava diede una spinta all'indietro al braccio che gli arrivava alla vita e notò che uscire da lì non era possibile i suoi occhi percorsero la sommità dei tornelli dove una serie di sbarri di ferro colmava lo spazio fino all'arco della porta d'ingresso immaginò che i possessori dei posti economici uscissero da altri varchi e anche se forse era considerato un vantaggio in termini di dispersione della folla non tranquillizzava di certo un mentore nervoso impegnato in una gita quanto meno opinabile dall'altra parte dei tornelli un plotone di pacificatori marciava verso un corridoio guidato solo dal bagliore rosso delle luci d'emergenza incassate nel pavimento su entrambi i lati erano segnalati degli archi più piccoli che conducevano ai diversi ordini di posti la fila di tributi e mentori seguì i soldati tra due ali di pacificatori disposti a ranghi serrati mentre si muovevano nell'oscurità coriolanus prese esempio da lisistrata e sfruttò l'occasione per far scivolare il tovagliolo con il cibo tra le mani legate dei lucigrei che lo infilò rapidamente nella tasca coperta dalle balze ecco non sarebbe morta di fame sotto la sua tutela la ragazza trovò la sua mano le dita dell'una si intrecciarono a quelle dell'altro che si sentì attraversare da un brivido di eccitazione per la loro vicinanza per quel piccolo gesto di intimità nel buio coriolanus le diede un'ultima stretta alla mano e la lasciò andare mentre si dirigevano verso la luce in fondo al corridoio dove un tale comportamento sarebbe risultato inspiegabile era stato all'arena molte volte da piccolo soprattutto per vedere il circo ma anche per acclamare le parate militari al comando di suo padre negli ultimi nove anni aveva guardato almeno una parte dei giochi in tv ma niente lo aveva preparato alla sensazione di varcare il cancello principale sotto l'enorme tabellone segnapunti ed entrare in campo alcuni mentori e tributi rimasero senza fiato nel vedere le dimensioni di quel luogo e quella maestosità che sfidava persino il degrado sollevare lo sguardo verso gli altissimi ordini di posti lo fece sentire piccolo quasi insignificante una goccia di pioggia in un'inondazione un sassolino in una valanga la vista delle troupe televisive lo riportò con i piedi per terra e lo spinse a cambiare espressione atteggiando il volto in modo tale da mostrare che ben poche cose al mondo potevano impressionare uno snow lucy gray che sembrava più vigile e si muoveva meglio senza il peso delle catene salutò con la mano l'epidus malmsey ma come gli altri inviati anche lui rimase impassibile e non ricambiò le loro direttive erano state chiare severità e rivalsa dovevano essere i tratti caratteristici della giornata l'uso di satiria nel termine tour aveva suggerito una specie di escursione turistica e per quanto coriolanus non avesse previsto una gita di piacere non si aspettava nemmeno la tristezza palpabile che ispirava da quei luoghi i pacificatori che li avevano affiancati si sparpagliarono mentre i ragazzi seguivano diligentemente il plotone principale lungo il perimetro all'interno dell'ovale in una sfilata polverosa e priva di gioia coriolanus ricordò che gli artisti del circo tempestati di lustrini e traboccanti di allegria facevano lo stesso percorso in groppa a elefanti e cavalli con la sola eccezione di seianus forse anche tutti i suoi compagni erano ora tra il pubblico ironia della sorte aracne si sarebbe dovuta trovare sul palco adiacente al suo vestita di paillette e impegnata a esultare con quanto fiato aveva in corpo coriolanus esaminò l'arena in cerca di tutto ciò che poteva rappresentare un vantaggio per l'ossi grey l'alto muro che circondava il campo e manteneva così gli spettatori al di sopra dell'azione prometteva bene la superficie danneggiata offriva pigli per mani e piedi permettendo a un agile scalatore di accedere ai sedili molti dei cancelli disposti simmetricamente lungo il muro sembravano altrettanto danneggiati ma dal momento che non sapeva bene cosa ci fosse oltre nei tunnel pensò fosse il caso di avvicinarsi con estrema cautela troppo facile restare intrappolati le tribune sarebbero state decisamente l'opzione migliore per lei se fosse riuscita ad arrampicarvisi prese alcuni appunti mentali per il futuro quando la fila cominciò a rompersi coriolanus iniziò a parlare sottovoce con l'ossi grey è stato terribile stamattina vederti così beh se non altro prima ci hanno dato da mangiare disse lei sul serio era nato tutto dal suo scambio con satiria sono svenuti dei ragazzi quando hanno provato a radunarci ieri sera credo abbiano deciso che se vogliono avere qualcuno per il loro spettacolo devono darci da mangiare pane e formaggio soprattutto abbiamo cenato e fatto colazione anche ma non preoccuparti mi è rimasto un sacco di spazio per la roba che ho in tasca qualunque cosa sia sembrava tornata se stessa eri tu quello che ho sentito cantare ah sì confessò mi hanno chiesto di farlo perché pensavano che io e aracne fossimo grandi amici non lo eravamo e mi imbarazza che tu mi abbia sentito mi piace la tua voce mio padre avrebbe detto che ha una bella autorevolezza la canzone invece non mi è piaciuta granché replicò lucy grey grazie significa molto detto da te ribatté lui gli diede una leggera gomitata questo non lo direi in giro però la maggior parte della gente di qui pensa che io stia più in basso della pancia di un serpente coriolanus scosse la testa e soghignò cosa c'è chiese la ragazza usi proprio delle espressioni buffe non buffe stricto senso più colorite le rispose beh io non dico stricto senso molto spesso se è questo che intendi scherzò no mi piace fa sembrare rigido il modo in cui parlo io com'è che mi hai chiamato quel giorno allo zoo c'entrava con una torta ricordò alla torta con anche la ciliegina voi non lo dite chiese beh è un complimento da dove vengo io una torta può essere piuttosto insulsa e le ciliegie candite sono rare come i denti di una gallina per un attimo coriolanus si mise a ridere dimenticando dove erano come era deprimente lo scenario per un attimo ci fu solo il sorriso di lucy grey la cadenza musicale della sua voce e quell'accenno di amoreggiamento poi il mondo esplose